ciao amici di mondo xiaomi questo non è un oggetto xiaomi ma da oggi ho deciso di portare sul canale degli oggetti sfiziosi interessanti anche se non sono del brand xiaomi iniziando una nuova rubrica che si chiama anche non xiaomi perciò questo sarà il primo video della rubrica che verrà chiamato la sfera lunare anche non xiaomi 1 che è più una luce decorativa per la casa che una lampada da comodino da 15 centimetri 5,9 pollici la lampada la potete appoggiare sul suo supporto che viene dato in dotazione o in alternativa appendere con questo gaccettino munito di spago questa sfera o lampada è ricaricabile tramite attacco micro usb e la possiamo attivare tramite questo pulsante ha una batteria da 500 mili ampere ed è fatta in pvc per accenderla basta toccarla come vedete e i colori a nostra disposizione sono il bianco caldo il bianco freddo e il bianco tenero però questo qui non so se riuscite a vederlo a voi cosa sembra a me mi sembra più un arancione a video forse sembra giallo mi garantisco che arancione poi abbiamo questo e poi quest'altro attenti ai vostri animali domestici perché il mio cane cioco la puntata pensava che fosse un gioco perciò rischiate che ve la rompe comunque come stavo anticipando all'inizio non è ideale da mettere su un comodino perché va bene che basta che fate così l'accendete e così la spegnete o cambiate colore ma se gli date una botta troppo forte se ne va e si rompe è solo un oggetto da design da lasciare acceso io consiglio questa colorazione la migliore viene chiamata lampada lunare perché vedete che sembra proprio la luna c'è il mio cane che sta abbagliando qualcuno dai come oggetto è carino è un oggetto da design secondo me non serve a molto però è un oggetto da design io vi lascio il link sotto al video in descrizione per un eventuale acquisto in questo prodotto su amazon e vi raccomando attenti ai vostri animali domestici che la potrebbero puntare e usare come gioco e poi rompere perciò noi ci vediamo ad un prossimo video vi raccomando iscrivetevi al canale mettete un bel pollicione verso l'alto e condividete questo video di questo oggetto veramente un caruccio ciao